A Barletta c'è una soluzione tampone per le problematiche legate alla viabilità pedonale nella zona industriale alimentate dai lavori di soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto. A partire dalla mattinata di venerdì 10 maggio infatti sarà accessibile al pubblico un varco per collegare via Callano con via Andria, due arterie importanti per il traffico stradale per avvicinare il centro cittadino. Il varco pedonale attraverserà due aree private. Una soluzione possibile ricorda una nota emessa da palazzo di città grazie alla disponibilità e al senso civico mostrato dai privati, le famiglie di Leo e Messina che si sono rese disponibili a consentire l'intervento nella loro proprietà. Il passaggio pedonale permetterà ai residenti in zona di smaltire una parte dei disagi legati all'isolamento forzato, condizione destinata a protrarsi per almeno altri due anni, e i lavoratori dell'area industriale di lasciare la propria auto in via Andria e raggiungere via Callano a piedi. Nella zona inoltre è stato anche potenziato l'impianto di illuminazione. Gli interventi volti a ridurre i disagi non si fermeranno qui, spiegano dall'amministrazione comunale. L'intenzione è quella di realizzare soluzioni pensate e condivise con i cittadini negli incontri pubblici avuti prima che iniziassero i lavori, ricorda il sindaco Cosimo Cagneto. In attesa di un feedback da ferrotrambiaria, conclude il sindaco, con l'ente che deve comunicare la propria disponibilità alla realizzazione di un ulteriore passaggio pedonale che consentirà da via Andria di raggiungere via Filannino e via Romagnosi.